Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti in un giorno dove non succede niente Bitcoin prima pompa poi dampa poi sta fermo e rimane nel suo range vuole chiudere l'anno così vuole chiudere l'anno in maniera abbastanza insignificante a me un po' dispiace perché ormai mi ero abituato quasi al voler recuperare al voler fare quel piccolo storno rialzista di cui parlavamo ma al momento sembra abbastanza fermo lì dov'è Nel frattempo alcune altcoin performano bene, ci sono alcuni settori che sono sempre interessanti, sempre caldi andiamo ad analizzare quelli, andiamo a fare un po' di focus anche perché di notizie non è che ce ne siano quindi oggi darò il ruolo da protagonisti a voi, mi raccomando siate belli carichi, partiamo subito partiamo subito perché, allora, che cosa vi ho portato di bello oggi? Vabbè, panoramica rapida su Bitcoin, ve l'ho detto, abbiamo un rifiuto abbastanza importante, abbastanza netto tra l'altro della resistenza a 52.000, ne parlavamo proprio nell'ultima live, ci eravamo lasciati mentre la stava attaccando questo attacco si è rivelato, vedete, un falso higher high, quindi uno sweep di questa zona di liquidità sweep che si è risolto poi con un assorbimento e alla fine con una conferma ribassista questa candela di ieri, che è stato un dampino, perché chiamarlo damp è un po' eccessivo però ci ha riportati dritti dritti sul range low, quindi siamo un po' tornati indietro ai giorni precedenti la situazione quindi non cambia, abbiamo sempre una struttura laterale all'interno di questo blocco struttura laterale che è evidente ancora di più, guardate sulla total market cap perché la total market cap, ce la possiamo fare, eccola, è andata anche lei a cozzare in maniera pulitissima contro questa resistenza, ricordate cosa dicevamo dello schema blocchi, dei blocchi entro i quali si muove la market cap totale, tendenzialmente funziona sempre così, si muove o va in trend, quindi è rialzista come ad esempio è stata qui, quindi linearmente rialzista, dove sale, abbiamo higher high, higher low, continui oppure si muove in blocchi, quindi lateralità e poi blocco a salire, blocco a salire, blocco a salire oppure a scendere se siamo in una fase correttiva e al momento ci trovavamo nella fase correttiva dove abbiamo una situazione di blocchi a scendere quindi come potete vedere abbiamo il trend rotto, lateralità numero 1, poi damp di nuovo, lateralità numero 2 e stavamo provando, vedete, a invertire la situazione andandoci a riprendere quella che era la resistenza e la possibilità quindi di fare un blocco a salire, tuttavia c'è stato un rifiuto abbastanza netto che ci riporta di nuovo nella situazione attuale, quindi non siamo in una situazione bearish, sapete che le condizioni al contorno sono rimaste le stesse e quindi la struttura macroscopica è sempre quella ovvero, ritornando sul nostro BTC, possiamo vedere che i nostri low sono sempre strutturati in questa maniera quindi con un possibile ancora higher low, mi sarebbe piaciuto vederlo confermato e allora lì ero veramente contento, ma purtroppo non è successo scusate, stavo guardando l'audio perché mi è comparsa la lucina rossa sul microfono e ho detto, li sto insordendo, assordando o meglio ma in realtà appunto non è ancora successo quindi dobbiamo o confermare di nuovo l'hier low con il recupero di 52.000 oppure, ahimè, e non mi piacerebbe molto come cosa andare a perdere di nuovo il nostro livello di supporto sui 46-47, che ci porterebbe a fare un equal low tra i 40 e i 42 o, peggio ancora, fare un lower low e continuare quindi questa epopea di storno una noia mortale di mercato che, insomma, andrebbe un po' secondo me a sgonfiare anche le altcoin perché le altcoin, finché bitcoin non è particolarmente direzionale vanno un po' di... hanno una vita propria ormai, possiamo dire ma se bitcoin inizia a mostrare segni di direzionalità ribassista purtroppo mi aspetto un po' di indebolimento anche in loro la mia strategia, ve l'avevo accennata, è quella di andare a mitigare un attimino il rischio spostandomi su una situazione più safe, incentrata sul farming di stablecoin io sono indeciso, e qui chiedo a voi anche un aiuto, una domanda, un'opinione sono indeciso se martedì prossimo fare già il video dove parliamo della strategia che adotterei in bear market o se tenerlo per gli episodi finali, diciamo, del corso di DeFi perché di fatto è una strategia di farming e secondo me starebbe bene all'interno del corso quindi ci devo riflettere, non so cosa ne pensate voi comunque io ho tracciato nel frattempo un fibonaccio per farvi vedere in che situazione ci troviamo inquadrando l'ultima parte di movimento vedete che siamo nella zona tra il 61,8 e il 50% a cavallo tra questa zona dove stiamo andando un po' a palleggiare sopra e sotto all'interno del range di cui proprio il range middle è il 50% quindi anche per fare una year low sarebbe stato un livello molto bello, molto rilevante stiamo un po' a vedere se questo lo mettiamo sulla total secondo me otteniamo un grafico ancora più interessante lo dico perché l'ultima volta era proprio pulito qua allora, guardate infatti guardate e concentratevi solo su fibonaccio e non sugli altri livelli tac poi cosa abbiamo? beh qua sopra in realtà non è proprio pulitissimo però il bottom sarebbe il low locale o meglio al 50% e quindi sarebbe molto clean come livello molto pulito mi piacerebbe assai sul settimanale vediamo come si posiziona non ci sono particolari anche qui rilevanze sui livelli di fibonacci e nemmeno lato grafico non aggiunge niente settimanale diciamocelo nemmeno su bitcoin perché di fatto mostra come cioè ci conferma una volta in più come siamo ancora all'interno vedete di quest'area non siamo fuori usciti dall'area siamo sempre lì volumi calante insomma deve un po' ritrovare il brio un po' di brio forza bitcoin nel frattempo parlando di altcoin ce ne sono alcune che a me non dispiace affatto che performino meglio tipo convex e curve bravissime continuate a spingere come solo voi sapete fare e però vi dico già che mi aspetto che se dovessimo andare a ritracciare in maniera importante con bitcoin io mi aspetto comunque un bear market che le coinvolge anche loro perché lo sapete no prezzo e fondamentali sono abbastanza divergenti di solito e quando c'è una situazione a tendenza ribassista il prezzo tende ad essere ribassista ovunque a prescindere dai fondamentali e da quello che succede quindi lì è proprio l'occasione di fare quel farm and accumulate di cui vi volevo parlare nella strategia forse martedì prossimo vedremo convex anche lei vabbè questo grafico è totalmente nonsense se guardiamo quello in usd vediamo che il suo trend è abbastanza carico abbastanza spinto e poi c'è la nostra amata farfalla non mi ricordo più neanche non sono andato neanche a vedere la situazione oggi ancora se hanno aggiunto o visto i bond con crv fatemi collegare il wallet così lo andiamo a vedere insieme dunque no sono su poligon sorry hanno aggiunto i bond su crv se non ricordo male li avevo visti stamattina eccoli qua siamo a 2500 dollari non ha sofferto più di tanto c'è da dire il quest'ultimo ritracciamento di bitcoin tutto sommato dovrebbero fare un indice su tutto l'ecosistema curve a tutto ciò che ci gira intorno sarebbe interessante da valutare il loro andamento ma lo faremo valuteremo l'andamento del settore rispetto alla media rispetto a bitcoin e alle altre alt i bond su crv utilissimo perché comunque loro adesso vanno ad accumulare ancora più token di governance crv e cvx sono quelli che gli servono tra l'altro mi sono dimenticato anche di farvi vedere dove dove avevo visto che hanno fatto la prima la prima harvestata diciamo dei bribe vedete che loro hanno usano i loro cvx poi per fare bribing su votium che dà un rendimento enorme come avevamo visto le ultime volte e hanno fatto il primo claim di quello che hanno insomma bribeato proprio su votium 580.000 dollari niente male e come vedete dalla transazione in questione vi ricordate no che avevamo visto quali bribe c'erano a disposizione loro hanno diversificato un po' tra curve, alchemix, frax, spell eccetera 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 la cosa bella del fare i bribe su votium è proprio la possibilità di ottenere token non cvx, non crv ma anche luna per dire no? si poteva andare a bribe solo su luna e ottenere luna e sta cosa proprio mi ha preso la testa sinceramente e quindi niente questo è come stanno procedendo le cose poi tutto verrà convertito immagino in crv, cvx e om presumo che la loro strategia sia quella tra l'altro si può, aspettate che vi volevo anche far vedere questa cosina porco cano, chiuso, non dovevo chiudere aspettate che riapro la transazione perché se si va su forse era questo, vediamo ad esempio con The Bank o anche con Zapper con altre dap quelle che esplorano i portafogli se noi sappiamo quello che è il loro vedete il loro multisig che di fatto è il loro wallet dove hanno la tesoreria noi lo andiamo ad aprire questo 0xA52FD ce lo copiamo lo incolliamo qui dentro tac e li andiamo a stalkerare guardate, andiamo a vedere cosa combinano hanno in tasca 73 mi pare che non si vedano gli om sì, avevano detto che non si vedono gli om qua cioè si vedono il c'è l'LP ma non si vedono gli om avevano detto che era un problema di visualizzazione presumo e 73 milioni di dollari distribuiti in questo modo questi sono gli asset che hanno appena recuperato dal bribe poi i CVX locati su Convex il farmano nel pool CRV CVX CRV su Curve poi CVX CRV in staking su Convex chiaramente le ricompense dei CVX CRV e poi stanno mettendo liquidità nel pool su Sushi Home Butterfly che è il loro che di fatto presumo sia quello che recuperano con i bond vedete un po' come funziona il meccanismo della protocol owned liquidity loro cercano di accaparrarsi liquidità e la mettono a rendita ma non solo se prima c'era solo il discorso di rendita qua c'è anche il discorso di potere di voto perché con CRV e CVX si va ad accaparrare potere di voto sono curioso di vedere quali saranno le prossime mosse perché ho veramente aspettative elevate e probabilmente ve ne eravate anche accorti dunque i rebase continuano presumo ininterrottamente senza particolari intoppi esattamente l'APY si è leggermente ridotto vabbè poco male non è non ci fa sicuramente piangere però al di là dell'APY cioè proprio l'ultima cioè l'ultima no però è interessante vedere come si muove questa DAO perché ecco ha aggiunto quel quid in più al mero accumulare liquidità ecco si accumula anche influenza hanno aggiunto i token wrappati anche che è la versione insomma come memo vmemo no quella cosa lì che non si moltiplicano ma vanno ad aumentare di valore di fatto è quello che accade comunque ci interessa poco andiamo alle altre le altre pillole di oggi dunque cosa vi ho proposto ecco airdrop season non so se avete notato ma ultimamente vanno di moda sti airdrop random completamente ad esempio SOS DAO cioè OpenDAO scusate col token SOS che ha airdroppato a tutti gli utilizzatori di OpenSea e poi oggi c'è stata anche GasDAO che ha airdroppato a tutti gli utilizzatori di Ethereum bam tutti ma scusa io mi chiedo ma facciamola anche noi cioè con sta scusa dell'airdrop noi airdroppiamo un token a caso dicendo non lo so a tutti cosa potremmo fare tutti i possessori tutti coloro che in passato hanno posseduto shitcoin oppure a tutti coloro che dai pensate a qualcosa anche voi noi ci teniamo chiaramente il 10% dei token senza vesting così quando airdroppiamo si crea FOMO tutti vanno a claimare gente che compra gente che vende noi dampiamo tutto in testa questi FOMAROLI pazzi e ci inteschiamo il profitto penso che sia così che funzioni dietro a tutto questo tutto queste belle parole perché alla fine sono curioso di vedere quale sarà il reale senso di questi token ovvero non ci sarà questa è un po' l'idea che mi sono fatto e quindi niente cioè non è scam non è che vi bucano l'wallet ok però a parte che gasdao è su Ethereum quindi probabilmente tra il claim lo swap una cosa e l'altra spendete di più dell'airdrop che vi arriva arriva solo a chi ha speso più di 1559 numero non a caso dollari di gas fee in passato su Ethereum e poi è proporzionale a quante fee si sono spese quindi più fee avete speso e più avete diritto a questo airdrop che tra l'altro è stato listato su Bybit se non ricordo male proprio oggi Bybit è un fulmine di guerra listare le nuove coin sul suo mercato spot è allucinante vediamo sono curioso di vedere come sta andando dov'è 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 gas gas USDT eccolo vediamo vediamo zero mamma mia quanti zeri ha un prezzo degno di Shiba Inu 0.0000 123409508 e beh direi che abbastanza non lo so vediamo vediamo cosa cosa sarà cosa non sarà io non ho nessun tipo di aspettativa sinceramente se vi state chiedendo se vale la pena comprarli comprarli la risposta è no da parte mia assolutamente no io non li toccherei manco per sbaglio anzi damperei a tzero quelli che mi hanno airdroppato cosa che ho già fatto ma non ditelo a nessuno poi a proposito di Bybit c'è il nuovo launchpad stavolta ve lo dico in anticipo il nuovo launchpad è Casta questa app di criptopagamenti super scillata tra l'altro scoperto da The Moon che è un insomma un personaggio di quali famosi internazionalmente Carl The Moon si chiama ecco questi no non ho sbagliato questo sono io non c'entro assolutamente niente sono uno scillatore anch'io ma non di casta Moon eccolo qua il nostro Carl The Moon che insomma è il cofondatore di questa roba quindi mi immagino che la scillerà quanto meno senza un domani e solita regola dei 50 bit nei prossimi 5 giorni no scusate tra il 31 e il 4 quindi non nei prossimi ma da dopo domani e poi proporzionalmente al numero di bit che si hanno si ha diritto ad una allocazione e questo è sicuramente vale la pena partecipare perché i launchpad sapete meglio di me come sono andati quindi tra l'altro quelli di Bybit danno una fettina più grande di quelli di Binance perché c'è meno gente che partecipa ma il rendimento è buono storicamente è sempre stato assolutamente ottimo poi cos'altro abbiamo Solana ecco oggi vi avevo parlato di Solend giusto una flashata vi avevo fatto su Telegram per un semplice motivo perché nel Borrow APY ci sono valori negativi ovvero ti paga per borroware su Sol su ETH su WEWETH e su BTC questo WEWETH in realtà è quello di Wormall quindi è assolutamente legit anche lui e quindi si può fare strategie curiose ad esempio andare a collateralizzare boh che cosa possiamo collateralizzare stavo pensando a combinare i massimi rendimenti possibili ma MSOL 1,64 pensavo collateralizzare MSOL prendere in prestito BTC farci altra roba può prendere in prestito Sol collateralizzare MSOL e prendere in prestito Sol solo per andare a spolpare questa rendita però secondo me c'è di meglio tra cos'è un 8% non è malaccio però forse c'è di meglio ma non è che ci sia ci sono grandissime cose da fare perché sarebbe utile se si potesse prendere in prestito Stable che allora lì sì che le vai a rivendere e vabbè se si vuole shortare Sol ad esempio si può andare a depositare Stable o un'altra coin che non si vuole shortare prendere in prestito Sol venderlo a mercato farmare con le Stable coin che abbiamo ricevuto da questa vendita aspettare quando vogliamo chiudere lo short fare l'operazione all'inverso ad esempio è short short Sol però e quindi non lo so vedete un po' voi questo è però ve lo volevo dire perché quando vedo dei borrow negativi io mi gaso tendenzialmente ultima cosa Riscarbor che è colui che è un insurance un protocollo di insurance DeFi svilupperà Ozon che è quello nativo Terra questa è la cosa che mi interessa e dice che Ozon versione 1 è in final testing quindi ci siamo quasi sostanza quello che arriverà sarà un'assicurazione nativa su Anchor quindi tanta roba che non c'è più da combino molti mi chiedete ma come si fa ad assicurare una posizione su Anchor io voglio aprirla ma la vorrei anche assicurare ecco io a questo punto aspetterei per evitare di combinare dieci protocolli di dover avere collaterali di qua di là da una parte dall'altra ma avere tutto nativamente integrato sulla medesima piattaforma a proposito di Anchor dunque vediamo la nostra yield reserve che sta perendo sta perendo tantissimo vedete che è in calo continuo quindi è il momento di fare qualcosa e mi aspetto che se ne saltino fuori in qualche modo perché non si può stare zitti in continuazione con questo downtrend adesso non siamo ancora in pericolo sia chiaro però bisogna muoversi in anticipo quindi o introdurre nuovi collaterali o andare a pompare un po' di più il borrow con la ricompensa in ANC che però farebbe un po' incazzare gli holder di ANC perché vai a diluirli di più altrimenti il buon Daniele che sta spolpando con abracadabra le yield reserve magari prende qualcosina da wonderland e lo caccia qua dentro così giusto per rimpinguarla non lo so vediamo cosa succederà ma è una cosa da tenere d'occhio perché altrimenti gli APY calano quella è l'inevitabile conseguenza bene amici miei io adesso passo la parola a voi bevo un po' d'acqua ghiacciata anche se oggi non è minimamente d'acqua ghiacciata è proprio noiosa è una giornata noiosa oggi mamma mia e purtroppo qualcuno oggi me l'ha chiesto ma la risposta è sì cioè se dovessimo andare in una struttura più ribassista la risposta è sì alla domanda toglieresti qualche cippino perché non è più la stagione dei cippini se andiamo in bear market ahimè però non vi dico quale ve lo dico mi tengo mi riservo il diritto di dirvi quale solo in condizioni un po' più critiche adesso tocca a voi tocca a voi giù con le domande allora sei d'accordo con Daniele riguardo al periodo bullish da ora fino a metà gennaio ragazzi io non lo so lì ha fatto una non so se è un inside o una sfera di cristallata o semplicemente si sentiva bullish ma io guardo il mercato cioè io io chiaramente sul lungo termine se mi chiedete sono sempre bullish e credo tantissimo nel mercato crypto nelle crypto come asset in quello che si sta costruendo intorno ma al momento la struttura è questa cioè stiamo correggendo c'è da vedere quanto io direi che potremmo essere più bullish se cominciamo a corrompere sta benedetta resistenza e ci riprendiamo qualche livello altrimenti mi sa che le previsioni vanno a farsi benedire benedire poi lui ha le whale dalla sua speriamo ragazzi speriamo cioè io sarei il più contento del mondo il più contento del mondo allora un cipino su cvx nel wallet di binance ha senso il darli e non metterli a rendita su convex eh ti perdi veramente tanto credimi però purtroppo capisco che le gas fee sono proibitive ma perché la roba bella cioè oltre al oltre al semplice detenere l'asset che di fatto si può crescere decrescere va in base noi fondamentali il l'utilizzarlo il metterlo a rendita c'è un super potere di questi asset perché rendono veramente un sacco io in particolare con i cvx quello che ci farei quello che ci faccio in verità è loccarli e trasformarli in vl cvx per andare a braibare come un pazzo perché su votium ogni dieci giorni due settimane quello che è ci sono i round e adesso sono chiusi sono terminati il 6 di gennaio c'è il prossimo e mi aspetto fiumi di bribe fiumi di bribe io non vedo l'ora cioè l'ultima volta è praticamente un cvx ti fruttava 90 centesimi in due settimane cioè il giro di bribe che dura due settimane quindi se facciamo due conti un cvx quanto costa adesso purtroppo non durerà per sempre questa pacchia ma cos'è 50 dollari arrotondiamo 0,9 diviso 50 è un 1,8% netto nel giro di due settimane quindi se lo annualizziamo moltiplicandolo per 52 diviso 26 diventa un quasi 50% annualizzato in altri token quella è la roba bella in altri token e holdando cvx che è un asset che c'è godo tantissimo a holdare quella è la roba bella e lo stesso vale per crv crv purtroppo il dato di per sé perde potere perché crv messo qua dentro e trasformato in cvx crv ti rendi il 60% di apr non ipy apr attenzione anche l'altro il briber apr e la roba bella è che te lo rende in in parte dov'è che è volevo farvelo vedere non ti paga solo in crv in sostanza le ricompense mi pare che siano da qua le ricompense sono in parte in 3 crv quindi in stablecoin in parte in crv e in parte in cvx forse mi pare che ci siano cioè 3 pool cvx crv e cvx mi pare che siano le ricompense che vengono vengono date 3 crv governance fee 10% dell'LP ok e cvx esatto è proprio quello cvx crv cvx 3 e 3 LP quindi le stablecoin una rendita diversificata 60% netto te lo diceva anche qua sì pirla io che non ci guardo eccolo qua vedete c'è una goduria una goduria totale nel mentre o il di crv cioè il massimo è quando uno dice sai quando detieni un'azione value che in più ti dà il dividendo di solito tipo del 2% se va bene qua holdi una roba value che secondo me chiaramente super value con un dividendo del genere top top non può durare tutto ciò no scherzo in realtà crv e cvx sì il cioè votium credo che alla fine a un certo punto non lo so saturerà in qualche modo non credo che braideranno all'infinito così tanto comunque torniamo a noi luca astroport astroport allora il lancio è stato un po' un flop perché di fatto di fatto purtroppo non c'è niente cioè è molto c'è molta poca roba cioè ci sono i pool l'interfaccia è bruttissima veramente brutta si può ricevere riscuotere gli airdrop adesso da quando ha lanciato quindi se stake avate luna o eravate liquidity provider su terraswap potete richiedere l'airdrop ma è terraswap è un terraswap in sostanza niente di più niente di meno infatti il prezzo di astro ne ha risentito abbastanza perché dal momento del lancio aspettate che ve lo vado a riprendere eccolo dal momento del lancio ha praticamente dampato in continuazione eccolo vedete trac fino a 1.50 adesso è sull'1.60 ma è un token da farm and dump cioè non serve a niente al momento questo è il fatto non serve assolutamente a niente ho visto che vogliono fare un modello sushi quindi fare un x astro una specie di x astro da alloccare in parte per avere diritto a una percentuale delle fee del protocollo una cosa di questo tipo però per il momento useless token proprio lock liquidity è la fase dove si si poteva andare a mettere liquidità sul pool astro UST che è bloccata per tre mesi 28 marzo 2022 si sblocca e basta quindi vediamo un po' cosa fanno nel mentre avevo aspettative più alte sono sincero delusione astro port lato mio delusione delusione non acquisterai il token proprio no anzi farm and dump poi vediamo ma astro funziona come crv o sbaglio no 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 astro è tipo liquidity director no ma crv non è un liquidity director crv è un dex cioè curve è un dex e crv dà diritto a votare se tu lo 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 locchi in vie crv ti dà diritto a votare sulla distribuzione delle ricompense nella settimana successiva cioè ogni settimana gli holder dv e crv votano e decidono dove andare a come andare a diluire l'inflazione in crv cioè in quali pool andarli a concentrare al momento astro non serve a niente magari con x astro ci sarà anche della governance vediamo cosa ci implementano ma per il momento non c'è nada de nada comunque no non è liquidity direction e non sono neanche uguali perché curve ha tutta una sua governance molto più evoluta non c'è paragone al momento non c'è proprio paragone poi vediamo vediamo cosa abbiamo una volta che si converte crv in cvx crv non si possono più tornare a crv vero ma guardi in realtà c'è il pool c'è il pool a parte che no cioè da qua in realtà no perché nel momento in cui tu vai a dare i crv a convex tu rinunci ai crv e ottieni il loro token che ti dà un sacco di apr però ti priva del potere su curve cioè gli dai regali a convex il tuo potere di voto su curve però c'è un pool se non erro proprio su curve tra l'altro cvx crv crv allora aspetta che te lo vado a prendere dove in sostanza mi pare che ci sia anche un rapporto non esattamente di uno a uno è però quasi molto vicino molto vicino perché tu giustamente dici se io voglio riuscire in usd cosa faccio ed è una domanda più che lecita se tu non hai curve cosa ti tieni cvx crv e lo devi vendere in qualche modo quindi vediamo crv eccolo qua cvx crv crv 1 a 1.02 c'è un 2 per cento di differenza tra l'altro curve vale di più di cvx crv questa strana come cosa un cvx crv è 0,98 0,98 crv bene cioè meglio no se uno può dire sì si arbitraggia a cannone così certo tra le gasti e tutto neanche tanto però io ho i curve li vado a loccare prendo i cvx crv e poi li vado a rivendere e faccio sto giro all'infimio aspettavo che cvx crv valesse di più non di meno cioè scusa di meno non di più perché altrimenti c'è questo giro di arbitra è così la liquidità c'è tra l'altro perché ci sono 63 milioni di dollari di liquidità però è così virtual price 1.007 quindi il prezzo atteso dovrebbe essere quello ma lì al momento si diverge un pelo però 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 c'è liquidità in uscita ecco c'è exit liquidity se si vuole andare a vendere questo è il discorso un cvx crv equivale a 0,98 exchange rate is too low cosa vuol dire probabilmente è il discorso dello slippage credo che dipenda da vai e dal fatto che non ho un neanche non ho niente in questo wallet comunque sì c'è la liquidità per rispondere alla tua domanda torniamo a noi torniamo a noi allora grande Luke come stai? tutto bene grazie quale chain vedi più competitiva? tra phantom, avalash, cronos, solana, terra allora bella domanda io credo che tutte abbiano il loro perché che sono tutte chain top notch secondo me ma tra tutte io vedo molto bene orcocane cioè non ce n'è una che vedo male di quelle hai scelte proprio perché terra sono bullish all'inverosimile con tutti i protocolli che stanno uscendo phantom c'è daniele che la pompa come un pazzo avalash è tantissima roba perché anche lei è il miglior forse compromesso tra decentralizzazione e scalabilità solana forse in questo periodo solana è un passo indietro ha un pelino indietro perché ha già dato cioè solana ha già dato veramente un sacco cioè c'è un ecosistema già sviluppato cronos anche lei è appena nata e quindi avrà una prospettiva di crescita grandissima ti posso rispondere tutte o non vale cioè veramente mi hai tirato fuori tutte le migliori chain in sostanza in termini di euro quanto sarebbe il minimo di cvx sotto il quale perde il senso loccarli su convex? guarda considera che le gas fee delle operazioni di staking erano tra prova stake eccetera eccetera sui 200-250 dollari erano complessivamente quindi secondo me sotto i 15.000 dollari anche forse qualcosina in più perde un po' di senso purtroppo sicuramente sotto i 10 non ha senso cioè poi devi fare gli harvest c'è da fare mille operazioni su ethereum quindi io starei anche un po' più a 15-20.000 secondo me sotto i quali perde di senso fare tutte queste operazioni che è un peccato perché insomma è veramente lì il valore aggiunto poi no? dunque 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 dove posso acquistare il token di token? la mia risposta è che se vi state facendo questa domanda forse è meglio che non lo acquistate no scherzi a parte non fate i pin ve ne prego fate state tranquilli non fatevi prendere dalla fomo solo perché vi ha affascinato ne ho parlato o chissà che cosa capite bene tutto ciò che ci gira intorno capite bene la defy perché altrimenti vuol dire che non potete averlo capito per davvero comunque è sui decks su sushi mi pare allora io di solito vado su one inch che è l'aggregatore che ti va a fare il routing migliore o su uni o su sushi comunque era token mamma mia quanti token eh sì in effetti token porco cane adesso c'è un elenco infinito di token che si chiamano token perché c'è dentro token mannaggia vabbè comunque su one inch si fa copia e incolla del contract in questi casi dai facciamolo giusto perché vi voglio bene allora allora ok dai eccolo prendiamo il contract incolliamolo opp eccolo capisco va bene tutto a posto dunque dunque non scambiamo non con dai ma con eth cosa sì ciao 6 milioni di eth one inch sushi swap mi pare che faccia il routing su sushi swap con uno slippage dello 0,3 non c'è tantissimissima liquidità no sì dai abbastanza 20 eth 0,4 di slippage sì abbastanza accettabile dai tramite sushi direi con 40 dollari di gas tac giusto perché ma oggi oggi è un giorno da non usare ethereum perché con gas dao che hai droppato stamattina guarda come dire la ironia della sorte sta bruciando gas come un pazzo e quindi ha congestionato ethereum in una maniera atroce se andiamo su etherscan gas tracker secondo me vediamo numeri folli ma adesso si sono un po' abbassati 90 guai che non è comunque diciamo che c'è di meglio però guardate gas dao è il terzo il terzo utilizzatore di gas allucinante allucinante comunque torniamo a noi allora 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 d'acqua va scaldata puoi analizzare il grafico di ftm va bene ftm eccolo qua quello che sta attaccando la resistenza per ora non c'è riuscito vediamo se ci riuscirà guardate il settimanale che è il grafico un po' rivelatore in questo caso perché se chiudiamo qua sopra la settimana poi ci sta fare questo play volendo speculativo no potrebbe starci potrebbe starci e altrimenti siamo appena sotto una resistenza quindi al momento non è cosa grande luca la mia prima diretta anche se sono arrivato tardi grande benvenuto benvenuto ma solana è ancora nel tuo portafoglio sì sì non è cambiato niente ma adesso vi farò l'aggiornamento cioè non è cambiato niente non è vero perché qualcosa è cambiato ma non è cambiato niente su solana intendo vi farò l'aggiornamento credo prossima settimana o tra due settimane il classico video della mia asset allocation lo aggiorniamo un po' lo aggiorniamo un po' dunque 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 migliori cripto che potrebbero esplodere nel 2021 hanno due giorni per farlo forse volevi dire 2022 ho fatto il video l'altro giorno ciao Luke come va Wonderland conviene entrarci ora con un cipino sai che io ero quasi tentato di uscire se se dovessi scegliere una sola DAO in cui rimanere tra Wonderland RomDAO e Redacted rimarrei solo in Redacted al momento e se dovessi togliere un solo cipino lo toglierei da Rome probabilmente che è quella più fine a se stessa tra tutte ma sai cos'è che mi ci fa pensare al toglierlo anche da Time l'hype che c'è è un livello di hype estremo e non è mai un errore questa è una lezione che ho appreso non è mai un errore fare take profit in un momento di hype mai un errore secondo me quindi visto che il discorso era di andare off risk un po' più off risk in caso di ritracciamento potrebbe essere il momento di uscire per me non voglio dire che è giusto farlo è un mio ragionamento a voce alta è la mia personale strategia dunque 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 mamma mia mamma mia troppi messaggi impazzisco allora analisi ADA lo so che ora ti deprimi analisi ADA dai andiamola a vedere andiamola a vedere allora uh bruttissimo atroce guarda che bearish retest che sta combinando qua mamma mia no no male molto male molto male ha perso un'occasione di fare magari un low locale che però sarebbe stato tale se andava a finire di nuovo qua sopra e comunque la direzionalità è fortemente ribassista no è molto molto ribassista perché dopo un higher high vedete questo massimo nuovo ha dampato facendo un lower low senza nel frattempo rimbalzare cioè non ha fatto come fanno tutti i cristiani di solito rimbalzino cioè higher low lower high e poi si va avanti non lei ha fatto direttamente lower low questo è Charles direttamente dalla groppa del suo cammello che ci ha dampato in testa tutti questo ve lo dico io ve lo dico io poi andiamo avanti andiamo avanti ho notato che usi brave come browser c'è un motivo particolare legato al mondo crypto ma legato al mondo crypto no mi sono sempre trovato bene mi blocca le pubblicità e non è affatto male non è affatto male ciao Luca non mi è chiaro un concetto esposto da Daniele nella live avengers perché Daniele dice di non considerare il prezzo di time bensì di memo ok che memo ha un suo prezzo ma alla fine del giro quel che torna in tasca è sempre time sbaglio mi interessa molto ma prima di investirci voglio capire bene ottima domanda complimenti questo vuol dire ragionare non ha detto in realtà memo ma v memo che è la versione wrappata la differenza tra time e v memo è che time è inflattivo quindi ti si moltiplica in tasca come butterfly mentre v memo non si moltiplica ma va ad aumentare di prezzo con l'aumentare del numero di time circolanti quindi anziché aumentare di numero aumenta di prezzo in sostanza prezza al suo interno le ipy questo è il discorso quindi lui giustamente dice non guardate il grafico di time che ha fatto per scendere l'abbiamo detto sempre è iper inflattivo quindi per forza di cosa ha una selling pressure continua sulla testa e continua a scendere è fatto apposta v memo invece prezza al suo interno anche le ipy quindi ha un po' tutta l'economia di wonderland al suo interno se uno vede il grafico di time magari sembra che dumping continuamente sembra una shitcoin a parte nel momento di massima fomo chiaramente che sale sale ma non è sostenibile un trend crescente per time ma nemmeno laterale e pertanto v memo va a apprezzare anche quella componente lì quindi si ha senso come cosa questa è la ragione quindi in sostanza spostiamo tutto su v memo e usciamo da no non cambia niente non cambia niente perché se tu resti in staking è come se holdassi v memo cioè non cambia nulla dal punto di vista tuo perché se tu hai time in staking quindi i memo crescono di numero quindi se tu ne avevi 10 dopo un tot ne hai 11 12 13 e il tuo controvalore cresce se tu non hai memo ma hai v memo tu ne avrai sempre 10 ma il loro controvalore è cresciuto quindi alla fine avrai 10 v memo che valgono come 13 memo ok questo è il discorso è la differenza del wrapping oppure no ciao luca ricaricare ora su mana engine e send cosa ne pensi guarda io detto proprio col cuore non toccherei una coin legata al metaverso nemmeno per sbaglio ora ma perché c'è un hype fuori di testa senza senso io lascio sgonfiare tutto ciò cioè se ne parla veramente tra mesi non voglio più saperne ho venduto le land ho venduto gli asset dei metaversi a prezzi folli secondo me ingiustificati e quindi per me gaming metaversi nft tutto quel settore lì al momento è accantonato c'è di meglio c'è di molto meglio pure star atlas pure star atlas è tutto tutto quel settore lì secondo me è sopravvalutato non dico che non ha valore perché ha enorme valore intrinseco il metaverso è il futuro lo so lo so anch'io ne sono convinto il gaming anche lo dico da sempre tra l'altro non è che non lo penso più penso solo che adesso i prezzi si sono alzati in una maniera esagerata mio parere come sempre non sono conigli finanziari lo sapete bene io vi dico quello che penso con tutta l'onestà del mondo magari dico cazzate magari in futuro mi direte pirla ti sei sbagliato hai venduto le land adesso le ricompri a dieci volte tanto possibilissimo ma vediamo stasera siamo in tantissimi tutti che aspettano il pump che non arriva non arriva niente pump dove sei pump dai dai fatti vedere mamma mia ci fai sudare grafico settimanale guarda chiarisce tutti i dubbi siamo laterali zero di razionalità bitcoin che non ha voglia di far niente vuole vuol festeggiare capodanno vuole vorrà aspettare vediamo ragazzi tra l'altro io vi faccio iniziare io ve lo dico a prescindere da cosa combina bitcoin vi faccio iniziare il 2021 con una bomba state sul pezzo perché non vi spoilerò ancora niente ma vi faccio godere nel 2021 ascoltate le mie parole come disse Rocco vi faccio godere non come Rocco chiaramente in un altro modo ma siate sul il 2022 scusate non il 2021 mi era rimasto in mente da chi mi ha chiesto prima le coin che devono esplodere nel 2021 allora allora vediamo qualche ultima domanda dove vedo gli aggiornamenti su abracadabra quali aggiornamenti non comprendo due parole su cake oddio l'ho persa due parole su cake e ce n'era un'altra ma non la trovo più non la trovo più vabbè dico due parole solo su cake va bene lo stesso nel 2022 esplode belp esatto da memo a vmemo dove posso wrapparli su wonderland c'è wrap e poi vmemo si può usare anche come collaterale su abracadabra se proprio si vuole esagerare cosa ne pensi del picco che ha fatto luna e poi ha dampato il senso di vmemo il senso di vmemo è usarlo come collaterale è questo il senso di vmemo il fatto che non si ribasa non aumenta di supply va bene come collaterale che incrementa che prezza l'APY quindi se lo devi usare ad esempio come collaterale su abracadabra usi vmemo per questa ragione vediamo allora avevano detto cake cake purtroppo non ha ancora dato segni di vita è lì che sta downtrend è downtrending babam babam così non lo so neanche io come disegnarla sta linea allora intanto non così di sicuro va vorrei vedere un reclaim di quest'area perlomeno ma idealmente anche di questa prima di chiamare il bottom non mi sembra energico cake mi sembra una di quelle coin che sta scaricando al momento non particolarmente interessante sushi è in fomo trovaci la entry ragazzi non dovete farmi queste domande perché io non sono qui per dirvi cosa fare e quando entrare da vi prego fate i bravi fate i bravi non fatemi disperare che vi voglio bene comunque allora io ci andrei buono con sushi perché anche qua la fomo è alta e quando c'è fomo c'è rischio come shiba inu aperto ho sbagliato ho sbagliato qua comunque 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 eccoci c'era come vedevamo l'ultima volta un potenziale costrutto di bottom informazione al momento le zone interessanti da tenere d'occhio le avevamo segnate proprio sul settimanale e se dovessimo chiudere ad esempio dove ci troviamo ora abbiamo questi 1720 che è un primo supporto sul daily tra l'altro guardate ce n'è anche uno più in basso qua sui 1500 però è molto in basso e sarebbe proprio all'origine di quest'ultimo pump però in sostanza si potrebbe laddove si ritraccia quindi andare a anticipare una sorta di costrutta di questo tipo e andare ad accumulare sul ritracciamento con uno stop sotto i minimi questo di solito è il setup comodo e utile da utilizzare vicino ai bottom di solito un setup da bottom questo ok benissimo benissimo e basta direi che adesso possiamo andare a vedere due grafico l'assicurazione di ust su ancora esaurita pensi che si possa riaprire ci sono alternative lo dicevo prima guarda aspetta ozone che è quasi pronta che è quasi pronta allora bene bene andiamo avanti andiamo avanti aspettate un attimo che devo fare solo una cosina poi andiamo avanti bene non so se chiccare o bannare ma si banniamo dai nel dubbio tac ok poi a fine live sbanniamo e bene procediamo con i graficozi allora bitcoin l'abbiamo già visto e non c'è molto da aggiungere anche perché è immobile andiamo a vedere il mensile anzi porca miseria si è giocato la possibilità di fare un mensile coi fiocchi perché se mi andava ciao dio non ancora però diciamo che le probabilità scemano allora c'è da dire a sua difesa a sua discolpa che se mi evita di dampare allora se in questi giorni non mi va a dampare sotto i 43.000 comunque la candela mensile non è male perché se guardate questa situazione dai ci sta alla fine abbiamo una zona di liquidità qua dentro cluster più la liquidità sotto al supporto che ha sostenuto anche il mensile a questo giro e alla fine abbiamo comunque un trend crescente qua con un equal high ma il trend è crescente dei low se invece ci andava a chiudere qua sopra cioè guardate che figata che era immaginatevi questa candela ma chiusa col body che chiude qua cioè avevamo oltre allo stesso discorso del trend crescente dei low avevamo una candela che era tre quarti shadow e un quarto body dopo appunto la respinta da parte della domanda su un bel pool di domanda il che ci portava in una situazione ancora più carica dai cioè se poi mancava giusto il follow up di domanda alla fine vedete che abbiamo i mensili verdi belli pieni e carichi due mensili rossi insignificanti l'ultimo tra l'altro con shadow lunga e insomma e lì la domanda poi poteva dare il colpo di grazia e farci partire però no non vuole vediamo vediamo come chiude il primo di gennaio vediamo come chiude ma tra l'altro stavo pensando che questa è l'ultima live dell'anno mi sa perché è venerdì venerdì è il 31 e il 31 mi sa che a quest'ora potrei non essere esattamente lucido pertanto credo che non ci vedremo magari vi droppo il video così giusto per non lasciarvi soli e poi ci vedremo lunedì è già è già lunedì che sarà il 2 perché è domenica e l'uno aspetta sto perdendo totalmente la cognizione mercoledì 29 giovedì 30 venerdì 31 quindi sì direi che saltiamo domenica no sabato 1 domenica 2 ci vediamo lunedì 3 direi proprio di sì vi droppo il video vi droppo il video venerdì ma la live mi sa che salta non sto a fare la live a metà giornata che insomma mi seguite in 4 poi che avete di meglio da fare comunque comunque a mezzanotte da cos'è che state dicendo a mezzanotte del 31 tutti con il video per festeggiare dai ragazzi dai vi prego fatti bravi perché io io vi voglio bene vi voglio molto bene ma insomma non il 31 distruggetevi non state non state dietro ai grafici ve ne prego ve ne prego o magari possiamo fare una live dove urliamo tutti to the moon tutti insieme con l'acqua ghiacciata in mano però allora 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 buon 2022 grazie buon 2021 anzi visto che oggi va così dunque 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 allora andiamo a vedere i th nel frattempo i grafici mensili mi rendono tremendamente bullish non li devo guardare non devo guardare ste cose allora torniamo sul daily che è brutto come la fame nel mondo con questo lower high e equal low che al momento sta tracciando quindi boh ethereum squalificato dalla bullish chart del 2022 certo io sono il re dei fanboy su ethereum comunque no non è non è interessante lato grafico al momento poi cos'altro abbiamo beh la dominance sarà sempre piatta come poche cose la total l'abbiamo vista di altro da vedere non c'è ragazzi cioè tutto al momento stanno pompando sushi che è in fomo terrificante per merito di danni poi stanno pompando le coin di curve dintorni curve convex eccetera quindi basta è lì l'attenzione è lì per il momento e noi ce le go luna luna a proposito vabbè luna sarà anche ora di ritracciare per luna cosa cosa ne dite io direi assolutamente di sì atom please andiamo a vedere atom andiamo a vedere atom no scherzi a parte attenzione con luna che è molto esteso segni di offerta importanti guardate queste shadow il follow up della candelozza rossa quindi ci sta che adesso è il momento di ritracciare un po' scherzi a parte atom atom ve l'ho detto deve spaccare questa ww geneticamente modificata cioè bam voglio vedere una roba del genere però atom una bag di atom per il 2022 potrebbe non fare schifo io ve l'ho detto ho fatto il video lo vedo molto bene atom nel 2022 è speculazione perché lo vedo bene nel futuro se fa certe cose è speculazione quindi non è il ragionamento con cui di solito investo però ve lo ripeto questo ragionamento perché secondo me può avere un senso e bene amici miei io cardano l'abbiamo già vista e fa assolutamente paura ma proprio proprio spavento quasi più di un primo piano di charles e basta io vi vi farei un saluto come posso passare da memo a v memo ma adesso non fatevi venire l'ansia di passare da memo a v memo guardate che non cambia nulla e a meno che non lo collateralizzate comunque io mi ricordavo che su wonderland qua c'era vrap allora un attimo ci arriviamo allora 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 bridge no vrap eccolo qua tac da memo a v memo eccolo qui in alto qui c'è vrap quindi si può vrappare e svrappare anche chiaramente con questa proporzione e il prezzo memo v memo cioè v memo memo scusate è in aumento con un tasso annualizzato del 69 900% questo è il discorso bene detto questo amici io vi saluto non vi auguro buon anno perché comunque venerdì il video ve lo droppo e vi vi auguro buon anno venerdì direttamente e speriamo che sia un anno pieno di di curve un anno convesso e basta dai ho detto abbastanza cazzate per oggi quindi vi saluto vi auguro una buona serata e alla prossima e speriamo che bitcoin dai faccia sto higher low benedetto che ne abbiamo bisogno ciao